Buonasera, siamo alla Scuola Civica Musicale di Chiari, di nuovo noi, Gianfranco Lombardi, il cantatore, il maestro Giuseppe Tarolli, che mi aiuterà, io canterò, il maestro mi aiuta a livello musicale con la chitarra, ecco, questa sera vi faremo ascoltare il secondo brano inedito che ho creato così, per farvi un po' divertire, ce lo dire così, ecco, e praticamente si chiama, il primo video, quello precedente, era Fantasia che ho di te, questo invece è Anima che non c'è, e mi auguro che vi piaccia anche questa canzone, ecco, voglio dire, allora, vediamo, procediamo nella performance. Tu penserai dentro di me, guardando le strelle, senza sapere se, anima che non c'è, anima che non c'è, anima in fondo al cuore, anima che ho dentro, ho dentro di me, anima che non c'è, anima col cuore, anima che, anima che ho dentro, dentro di me, no, 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 no Anima che ho dentro il cuore, anima che, anima che è dentro, dentro di me, anima che non c'è, anima col cuore, anima che, anima che è dentro, dentro di me, anima che Grazie, buonasera, grazie Grazie